Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpala che ha modificato l'allerta meteo gialla per neve. I versanti padani di Ponente ovvero la zona D sono in allerta fino alle 15 di domani martedì 5 gennaio. Entreranno a mezzanotte anche in allerta i versanti padani di Levante. La zona E allerta che durerà fino alle 15 sempre di domani martedì 5 gennaio. Condizioni di instabilità dunque favorite da una vasta circolazione ciclonica che interessa gran parte dell'Europa occidentale con la nostra regione che vedrà ancora fenomeni nei prossimi giorni. Il dettaglio oggi lunedì 4 gennaio in prevalenza coperto con piogge diffuse, locali rovesci o temporali al più moderati anche a carattere nevoso nelle zone interne del centro del Ponente. Quota neve in calo nella notte, venti in prevalenza tra deboli e moderati, locali rinforzi da nord-est sull'Imperiese e da sud-est sul centro Levante. Mare fino a localmente agitato in serata a Levante, molto mosso a Ponente, temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 5 e 9 gradi nelle zone interne tra 1 e 5 gradi. Domani martedì 5 gennaio coperto per tutta la giornata, al mattino piogge diffuse e locali rovesci, in particolare sui settori centrali, nevicate sulle zone interne anche a quote basse, fenomeni in parziale attenuazione sulle zone costiere dal pomeriggio, venti forti settentrionali sui settori centrali, deboli o moderati altrove. Mare in calo fino a mosso, localmente molto mosso a Levante, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 2 e 5 gradi nelle zone interne tra meno 2 e 2 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 3 e 7 gradi nelle zone interne tra 0 e 4 gradi. Dopodomani, mercoledì 6 gennaio, al mattino molto nuvoloso, con prime schiarite sull'Imperiese, residui e precipitazioni sulle zone interne e sul Levante, fiocchi di neve oltre ai 400-600 metri. Nel corso della giornata generale miglioramento con cielo a tratti soleggiato sul centro ponente. Durante il pomeriggio addensamenti a Levante con residui più vaschi possibili sullo spezzino. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali sul centro ponente, moderati da sud-ovest a Levante. In generale attenuazione nel corso della giornata con successiva rotazione da nord. Mare molto mosso a Ponente fino ad agitato a Levante per onda formata da sud-ovest, molto ondoso in calo tra la sera e la notte. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 2 e 4 gradi nelle zone interne tra meno 2 e 0 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 5 e 8 gradi nelle zone interne tra 3 e 5 gradi. È tutto, seguite i ragionamenti su arpal.ligure.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!